Davide Merola qui in postazione con noi. Eccolo Davide Merola. Ciao Davide. Ben ritrovato dopo tanto. Sono sempre quasi stato. No, 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 qua in mix zone dico. Ben ritrovato dopo tanto e bentornato al gol. Una doppietta importante per vedere il nuovo Davide Merola. Ma ti dico, sono molto contento per questi due gol, non nascondo questa cosa che ci tenevo tanto, ma sono anche contento per la prestazione della squadra perché ce lo meritiamo. Questi giorni siamo stati insieme, abbiamo fatto molto gruppo, ci siamo divertiti ed il giusto premio è questa vittoria qui a Pontederra. Nella serata dove si è visto il miglior Pescara stagionale, forse è simile, si era visto qualcosa di simile nel primo tempo di Perugia? No, te l'ho detto, sì, forse è una delle migliori partite che abbiamo fatto e sono contento come sono contenti tutti i ragazzi e cerchiamo di dare continuità a queste due vittorie. Gol, cominciamo dal primo. Canciano ti ha chiamato in verticale, è un'azione simile a quella che aveva fatto a Cornero, lì poi aveva fatto assist per Cupone. Sì, diciamo che l'azione è simile, il mister ci chiede questi tagli quando prende palla all'esterno dall'altro lato di tagliare, io l'ho stoppato in controbalzo, il portiere era uscito e poi mi sono ritrovato a porta vuoto. Nel secondo, in quel sinistro, tutta la cattiveria, tutta la rabbia che avevi in corpo. Sì, diciamo che ho calciato forte, pensavo che era gol quello di De Marco prima, però per fortuna è andata bene. Chiudiamo con una battuta simpatica prima di una domanda da studio. Dopo il primo gol che hai segnato, hai fatto spaventare talmente tanto Max Mucciante che era dietro con il tuo urlo al suo teleobiettivo, siamo molto curiosi di vedere quella foto. La foto penso che uscirà domani. Sul centro domani, ci dice Max Mucciante. La foto uscirà domani, no, è un urlo un po' di liberazione, ci tenevo tanto a fare gol. Ma che era successo finora? Perché non rivedevamo il vero Davide Merola? No, ma io vado al campo, cerco di lavorare e di migliorarmi giorno dopo giorno, poi voi dicevate che non vedevate il vero Merola, io sempre questo sono. No, lo dicevano i numeri e non è che lo dicevamo noi. Certo, io sempre questo sono e vado avanti per la mia strada e cercando di migliorare e lavorare giorno dopo giorno. Una domanda da studio, Fabio Ferraresi o Massimo Profeta? Fabio? No, beh, riagganciandomi alla considerazione di Enrico, io credo che il ragazzo in modo molto obiettivo sa bene che poteva fare di più e che deve giocare su questi livelli perché è un giocatore da cui la piazza e la squadra si aspetta tanto e io credo che anche lui non fosse contentissimo di questo avvio di campionato. Fabio Ferraresi dice che probabilmente anche tu in quartù non eri contento di questo inizio campionato, hai delle grandi qualità, la piazza, la città da te si aspetta tanto, si aspetta Davide Merola sempre a questi livelli. Sì, certo, anche io ho aspettative molto alte, voglio dare sempre me stesso il meglio di me stesso per il Pescara, magari a volte ci riesco, a volte non ci riesco ma come ho detto prima solo il lavoro alla fine ripaga, quindi io vado al campo, cerco di migliorarmi e poi quello che succede, succede. Chiudiamo con quella che era la nostra battuta simpatica dell'anno scorso, la riprendiamo da oggi, domani ti farà brutto in allenamento Zeman? Ah boh, vediamo domani. Secondo te? La risposta è sempre quella, domani te lo potrò dire. Grazie. Grazie.